Con la prima domenica dedicata all'alimentazione sono iniziate le domeniche in rosa. Hanno partecipato le aziende Misici di Camerino, la pasta di Aldo di Monte San Giusto, l'azienda agricola Antinori di Cingoli, l'azienda agricola Sigi di Macerata. Sono tutte aziende nostre locali, hanno fatto delle degustazioni, fatto conoscere le loro attività e i loro prodotti, la provenienza, la qualità, il processo alimentare, perché era proprio la domenica dedicata al settore alimentare. Nelle prossime settimane il programma proseguirà il 10 novembre con il settore benessere, il 17 novembre con il cuoio e tessile e infine la serie di eventi si concluderà il 24 novembre con l'artigianato artistico. Queste domenica tema che stiamo organizzando sono delle particolarità, delle chicche che organizziamo all'interno dell'enoteca. daremo valore alle nostre imprese, valore nel senso che potranno esporre i loro prodotti, illustrarli, farli conoscere e dire soprattutto di dove sono ubicate anche queste aziende, perché molto spesso non si conosce neanche la provenienza di certe nostre aziende, magari sono conosciutissime all'estero e invece bisogna valorizzarle anche nel contesto economico locale. E gli incontri al femminile all'enoteca servono anche a ricordare a tutti i partecipanti l'appuntamento con il prossimo mercatino natalizio. Si terrà il 14 e 15 di dicembre qui a Macerata, a piazza San Giovanni e alloggiato della piazza, come abbiamo organizzato lo scorso anno, visto il successo che abbiamo ottenuto. Quindi quest'anno amplieremo la partecipazione alle nostre aziende e potranno fare anche la vendita quindi dei loro prodotti.